Un saluto a tutti i lettori di Hardware Phone. Oggi andiamo ad effettore la video recensione di HTC Desair 500, uno smartphone che è arrivato in redazione circa una settimana fa e che davvero ci ha regalato delle esperienze di utilizzo senza ombra di dubbio positive. Eccolo qui, lo smartphone realizzato interamente in plastica, plastica proprio perché si tratta di un dispositivo che va a posizionarsi in una fascia di prezzo medio-bassa, lo si trova in rete a circa 250€ ma il prezzo dichiarato dall'azienda è di circa 300€. Si tratta di un dispositivo quindi aperto ad una utenza molto aperta, molto più abbordabile e che davvero davvero è interessante. Ve lo faremo scoprire nel corso della videoprova. Eccolo qui, le dimensioni sono davvero contenute, sto parlando di 131,8 x 66,9 x 9,9 mm di spessore. Il peso è di circa 123 grammi, si tiene davvero molto molto bene in tasca e anche i materiali con i quali è stato costruito ne consentono un ottimo grip e questo non può che farci piacere. Andiamo ad esaminare lo smartphone, un po' nelle varie caratteristiche. In alto abbiamo il tasto di accensione e spegnimento dello smartphone, tasto che andiamo a premere per accendere il dispositivo. Sulla sua sinistra abbiamo l'entrata per inserire le cuffiette nel formato standard. A sinistra abbiamo il bilanciere del volume con le freccette poste qui in alto e in basso, separate dalla cornice bianca. In basso abbiamo l'entrata per inserire il cavo USB-micro USB, secondo microfono per la riduzione dei rumori e poi il lato sinistro interamente pulito. Nella parte posteriore troviamo una plastica interamente bianca con logo HTC in rosso, rosso è la colorazione che ci è stata inviata di questo dispositivo, fotocamera da 8 megapixel con il flash LED e poi abbiamo anche lo speaker posto qui in basso dotato anche di ottimizzazione bits audio per le cuffie. Lo smartphone si è appena acceso, lo andiamo a bloccare, vi faccio vedere un po' frontalmente cosa troviamo. Troviamo la capsula per le chiamate, fotocamera da 1.6 megapixel e i vari sensori di prossimità e di luminosità che sono nascosti sotto il vetro. In basso troviamo i due tasti di Android, abbiamo il tasto home e il tasto ricerca e poi troviamo questo display da 4.3 pollici con risoluzione 480x800 pixel. La risoluzione di questo smartphone non è molto elevata, ma visto che si tratta di un pannello TFT con 240 dpi, davvero non si vedono i pixel quando andiamo ad avvicinare lo smartphone alla videocamera o nel nostro caso agli occhi. Eccolo qui lo smartphone che si è appena acceso, come potete vedere è installato Android nella versione 4.1.2, ho letto in rete che è stato rilasciato l'aggiornamento alla 4.2.2. Il nostro smartphone vede l'aggiornamento ma non riesce ad aggiornarsi via OTA perché dice che si tratta di un firmware non adatto al nostro dispositivo in quanto dice che è stato modificato. Vabbè, bando alle ciance, andiamo avanti, eccolo qui il menu, adesso notate un po' di rallentamenti perché è il primo avvio. Informazioni software, Android 4.1.2 e abbiamo la versione di Sense 5.0. Andiamo indietro, vi faccio vedere un po' le impostazioni che sono classiche di quelle di cui HTC si è abituato con One e con gli altri smartphone. Abbiamo l'ottimizzazione bits, come vi ho parlato prima, tutte le varie impostazioni. Andrando in alimentazioni è presente il risparmio energia che ci consentirà di risparmiare batteria al nostro smartphone. Motualità fast boot per l'avvio e lo spegnimento rapido e la modalità sleep che ci consentirà di disattivare automaticamente la connessione dati durante i periodi di lunga inattività. Torniamo indietro, vi faccio vedere un po' la fluidità di sistema. Eccolo qui, il lancer della nuova versione della Sense 5.0, è stata rilasciata la 5.5 solo per One e OneMax, ma lo ranno anche Android 4.3. Abbiamo il solito lettore BlinkFeed di notifiche, di notizie, che è possibile modificare i vari argomenti e i servizi. Ecco qui, tutti i servizi sono disponibili. Possibilità anche di abilitare le notifiche Facebook o di Twitter e dei vari social network. Andiamo a vedere un po' anche le categorie. Scegliamo le categorie, come vi ho fatto vedere anche con l'HTC One, abbiamo la possibilità di vedere tutti i contenuti in base alle nostre preferenze. Andiamo nel menu dell'app Drawer, menu con una griglia delle applicazioni che vanno da 4x4, quindi troveremo 16 applicazioni all'interno. Possibilità di visualizzare le applicazioni in ordine alfabetico, più recente o personalizzata. Possibilità di nascondere, di gestire le applicazioni e di gestire anche la dimensione della griglia, che di default sarà 3x4, ma che con questa semplice modifica diventerà una 4x4. Quindi mostrerà molte ma molte più applicazioni. Come potete vedere il sistema scorre davvero bene, adesso è vero che non l'ho appesantito, ma comunque non ci sono particolari problemi. Parliamo di hardware presente in questo dispositivo, abbiamo un processore quad-core da 1.2 GHz, 1 GB di memoria RAM, scheda grafica Adreno 203 e 4 GB di memoria ROM soltanto per l'utiente. Possibilità anche di andare ad espandere il dispositivo con la microSD fino ad un totale di 32 GB. Torniamo indietro, non vi ho detto che questo smartphone ha la scocca rimovibile, questo ci sembra un passo indietro, fatto da HTC, visto che la maggior parte dei suoi dispositivi presenta una scocca antibody. Possibilità di inserire la sim, questo sembra un po' contraddittorio perché si poteva pensare anche come una soluzione dual sim di questo smartphone, ma comunque HTC ha scelto soltanto di inserire una sola sim nel formato micro ovviamente e anche l'alloggiamento per la microSD. In basso qui troviamo la batteria nera da 1800 mAh e nient'altro. Andiamo a rimettere lo smartphone nella scocca, eccolo qui, una volta chiuso tutto non ci sono particolari problemi di scricchioli. Che altro dirvi? Lo smartphone dal punto di vista delle connettività presenta davvero tutto, ad eccezione dell'NFC troviamo Wi-Fi ABGN, Bluetooth 4.0, HSDPA, HSUPA+, quindi dal punto di vista delle connettività non ci sono davvero problemi. Che altro dirvi di questo smartphone? Andiamo ad effettuare una semplice chiamata, chiamiamo il 119, servizio clienti team. Ecco, ci saremmo aspettati qualcosa di più da HTC con questo Desert 500 per quanto riguarda lo speaker, il quale è stato posizionato qui in basso, quindi quando va ad appoggiarsi su una superficie l'audio va a farsi friggere, ma anche quando stiamo ascoltando un brano normalmente l'audio si rivela davvero davvero basso. Che altro dirvi di questo Desert 500? Apriamo il browser, andiamo ad effettuare una navigazione web, rechiamoci sul nostro blog di hardwarephone.com, aspettiamo i tempi di caricamento della pagina, siamo connessi sotto la rete wireless. Adesso risulterà un po' più lenta perché sto caricando un video su YouTube dal PC, quindi non valutate la velocità adesso di questo smartphone, ma successivamente andrà sicuramente meglio. Andiamo anche su TheVerge.com, così li carichiamo entrambi, vediamo se ha fatto, no, ci sono problemi con internet, vediamo di qua, TheVerge, no. Vabbè, stacchiamo la connessione Wi-Fi, forse è perché sto finendo tutta la banda di lì con YouTube, ricarichiamo sia hardwarephone che TheVerge, i quali dovrebbero caricarsi abbastanza velocemente. Ecco qui che hardwarephone sta per caricarsi il nostro blog, tempi di caricamento comunque che dipendono dal mio team, ho una scheda team all'interno di questo Desire. Come potete vedere la navigazione web è abbastanza veloce, ci sono ovviamente piccoli problemi legati alla navigazione web, ma non sono gravi. Torniamo su TheVerge, che anche esso avrebbe dovuto finire di caricarsi, vabbè, si è caricata la versione, no. Desktop, abilitiamola a full site, spero non ci siano problemi, TheVerge.com, dai. Ok, eccolo qui, sito molto molto più pesante, vediamo adesso come andrà a comportarsi il browser di questo HTC One. Ecco qui, ha finito quasi il caricamento, pinch veramente abbastanza fluido, possibilità di adattamento alla colonna, davvero ottimo. Ok, ogni tanto è presente qualche piccolo scatto, ma niente di grave. Usciamo dal browser, adesso andiamo a vedere un po' il software della fotocamera, HTC 8 megapixel, inserito in questo Desire 500. Possibilità di andare a gestire le scene, il fare foto panoramiche, l'autoscatto, la qualità dei video, fino ad un massimo di HD, quindi 1280x720. Possibilità di andare a bloccare la messa a fuoco nei video, di mettere la griglia e quant'altro. Vi faccio vedere un po' di fotografie che ho scattato con questo HTC Desire 500, poi ve le metterò ovviamente nella recensione scritta. Questa foto che vengono abbastanza bene, le macro ormai i dispositivi ci sono arrivate, guardate com'è venuta bene questa macro. Qui ci sono, vabbè, volevo mettere a fuoco la goccia sul lavello e davvero fa delle fotografie ottime. Che altro dirvi di questo dispositivo? Magari HTC poteva implementare il Full HD, la registrazione video Full HD, visto che comunque è un sensore da 8 megapixel. Troviamo l'applicazione musica, in modo tale da andare ad effettuare anche un'prova di riproduzione. Eccolo qui, musica, ottimo client dell'azienda. Ok, ascoltiamo Babbo Rili. Alziamo il volume. Come potete vedere l'audio appare davvero basso, non riesciamo a capire il perché della scelta di questo speaker un po' obsoleto per questo smartphone. Ma vabbè, ragazzi, davvero nulla di significativo. USB 2.0, proviamo l'OTG, vediamo se funziona. Sto facendo questa prova in diretta con voi. Memoria USB pronta. Lo smartphone gestisce anche l'OTG. La lettura della mia USB Drive. Questa è una cosa che non sapevo. Ho fatto la prova con voi. Ecco qui, tutti i file che ho sulla mia penna USB vengono correttamente letti dallo smartphone. Vediamo un po' le applicazioni presenti di sistema su questo Desert 500. Abbiamo il kit auto, 7Digital. Vabbè, calendario. Dashboard genitori per gestire un account per i propri figli e fargli usare il dispositivo. Nient'altro, ragazzi. Polaris Office per la gestione dei contenuti Office. E nient'altro. Batteria, per concludere l'autonomia di questo smartphone. Batteria da 1800 mAh. Siamo riusciti a coprire la giornata di utilizzo intensissimo. Per l'utilizzo intenso intendo WhatsApp, navigazione internet, social network, fotografie, eccetera. E anche circa un'oretta, due orette di telefonate. Quindi, davvero, la batteria si comporta davvero bene. È sempre una 1800 mAh, ben ottimizzata da HTC. Prezzo, circa 300€, quello ufficializzato dall'azienda. È possibile trovarlo in rete a meno. Per altri dettagli, non vi resta che attendere la recensione finale sul nostro blog di hardwarefun.com. Io vi mando un bacione, sono Antonio Morra e ciao!